Il nostro cenone di fine anno, ovvero grigliate in giardino Eccoci qua, vi abbiamo fatto vedere cosa abbiamo mangiato più o meno Il nostro cenone Il nostro cenone della vigilia, di fine anno E adesso andiamo a vedere i fuochi arti che c'è In centro, vi facciamo vedere qualcosa forse Se riusciamo a riprendere qualcosa con le mini telecamere Vedremo, sì, non ci stiamo portando attrezzatura perché sarà pieno di gente E quindi ci vediamo tra poco 3, 2, 1 1, 2, 1 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.